Avvocati, magistrati e docenti universitari spiegheranno la Costituzione italiana nelle scuole primarie e secondarie del Comune di Teramo. Un progetto pilota di educazione civile ideato dalla casa editrice Giuffre e al quale hanno aderito l'Università degli Studi di Teramo, l'Ordine degli Avvocati, l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo. Un percorso che ci servirà per formare le prossime generazioni e farli essere dei cittadini sempre più consapevoli di quelli che sono i diritti e i doveri che siamo chiamati a rispettare e a pretendere come cittadini della Repubblica Italiana. Evidentemente dopo anni nei quali questa generazione veniva definita come una generazione quasi disinteressata, bamboccioni, ciusi, sono stati tanti termini scelti per individuare questa che è la generazione in età scolare, noi proviamo a invertire la rotta, investiamo su di loro e sulla loro formazione con un percorso evidentemente interessante, un percorso pilota che già in tanti ci stanno chiedendo negli altri territori per far sì che possa essere in qualche modo replicato. E mentre i magistrati del Tribunale di Teramo racconteranno la Costituzione italiana agli studenti delle medie, gli Avvocati terramani se la dovranno vedere con i bambini delle elementari. Cercheremo di spiegare in modo molto semplice a questi piccoli cittadini quanto sono importanti i principi di uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e insomma tutti quelli che sono i valori fondanti della nostra Repubblica. Cercheremo appunto di farli anche attraverso il gioco, di farli avvicinare a questi valori. L'Università di Teramo invece incontrerà gli studenti delle scuole superiori. Quale sarà il linguaggio e l'approccio con questi studenti? Ma un approccio didattico ma al tempo stesso d'invito diciamo così alla critica e soprattutto a far vivere la Costituzione declinata sui temi dell'attualità. Ecco la nostra Costituzione. La nostra Costituzione è la guerra. Qual è il rapporto? Ma la nostra Costituzione ripudia la guerra. Ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Questo non vuol dire che non consideri la guerra ma la considera come guerra difensiva e cioè intesa come difesa dall'attacco altrui all'integrità del territorio dello Stato. A cosa serve la Costituzione? La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Essa racchiude i principi e le regole della convivenza civile. Per esempio ci dice che siamo tutti uguali, che siamo liberi di parlare o di restare in silenzio, di viaggiare, di uscire con gli amici, di andare in chiesa se lo desideriamo. Ci dice anche che abbiamo il diritto di lavorare, di studiare e di curarci se ne abbiamo bisogno. E ci dà perfino la possibilità di scegliere chi deve rappresentarci in Parlamento che è il luogo dove si prendono decisioni più importanti per il nostro Paese. La Costituzione, in altre parole, ci dice che abbiamo il diritto di essere felici senza fare del male agli altri.